CINDY CRAFORD Cindy Crawford, ecco qual è il suo elisir di giovinezza da vera star Negli anni 90 era una delle donne più sexy e affascinanti del mondo. . Oggi a più di 50 anni rimane una delle donne più sensuali e ammirate dello show system, come fa Cindy Crawford a mantenersi sempre giovane come una vera star? Questo è ciò che si chiedono da sempre le donne che vedono il tempo passare, ma la bellezza della top model più famosa degli anni 90, mai a passire. . Cindy Crawford ha un fisico marmoro e un'altezza notevole, ma soprattutto ha un viso molto riconoscibile grazie al neo che lei stessa ha trasformato in un simbolo di bellezza. . Arrivare alla sua età con l'aspetto di una quarantenne non è impossibile, basta seguire i consigli del suo elisir di giovinezza. . I segreti di bellezza di Cindy Crawford. Il suo volto non ha una ruga, la sua pelle è luminosa e senza imperfezioni, Cindy Crawford ha dimostrato a tutto il mondo che si può sconfiggere l'età, senza dover ricorrere a grandi operazioni. . La top model degli anni 90 è bella oggi, così come lo era quando varcava le passerelle di tutto il mondo ed è tutto merito di alcuni elisir di giovinezza per lo più naturali che utilizza fin dalla giovane età. . Il primo riguarda un mix di acqua e latte che vaporizza sul viso ogni mattina al suo risveglio, questo rimedio sembra che l'abbia ereditato da sua nonna, garantendosi una pelle perfetta. . Un altro elisir di bellezza utilizzato dalla ex top model riguarda il caffè, la caffeina infatti è uno degli ingredienti più utilizzati quando si tratta di rimedi contro la cellulite. . Cindy Crawford quindi ha dichiarato di utilizzare il caffè macinato o i classici fondi per masseggiarsi la pelle asciutta, affetta da cellulite, in seguito si risciacqua sotto la doccia oppure leva ogni traccia di caffè con una spazzola per il corpo. . . L'obiettivo? Migliorare la circolazione delle gambe, che in questo modo rimangono sempre toniche e slanciate. . Oltre a questo due rimedi, è importante sottolineare che la Crawford ha sempre fatto uso di creme di bellezza ultra specializzate, maschere idratanti, ma soprattutto mantiene uno stile di vita sano. . Lo stile di vita della modella. . 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